Ciao, Jack. Ho cambiato idea. Ho deciso di lacinare. Dammi la mano. Vieni. Appoggiati alla vinghiera. Tranquilla. E' sterilizzata. Ti piace il mio profumo? Io non sento nessun profumo. Ti fidi di me. Non tarda. Io non sento nessun profumo. Non sento nessun profumo. Non ricordo che sei la cosa. Non posso capire. Non posso dire qualcosa. Questo potrebbe essere l'unico. Raga. Dai, sono le 10. C'è il coprifuoco. Dai, tutti fuori. Dai. Oh, ma... No. No. Ma che stai facendo? I panzerotti un diman, e se non cresce A volte capita Ma chi ore sono? E tre, e tre abate Ma ti posso aiutare? Metti le mani Scemo, sulta molire Ma ti è arrivato l'essito del tampone? Sì, sono positivo Mannaggia che temo Vado io Ciao E' uno Vax Vigli che non ci interessa e mandali a fanculo Vigli che non ci interessa e mandali a fanculo Vigli che non ci interessa e mandali a fanculo Vigli che non ci interessa e mandali a fanculo Vigli che non ci interessa e mandali a fanculo Oh, il rispone!